Leonardo Silva Revisore a Sardegna Revisore a Sardegna Revisore a Sardegna Revisore. Va bene, buonasera. Allora, io sono colui che vi separa dalla pausa caffè. Allora, noi stiamo vivendo un momento storico molto interessante. Alcuni ancora sono bizzarramente convinti che si tratti di una crisi economica. Quelli più lungimiranti hanno capito che non è in realtà una crisi economica, ma è un cambiamento di paradigmi, stanno cambiando le regole del gioco proprio. Voi immaginate per un attimo di aver vissuto durante la rivoluzione industriale e a un certo punto facevate i contadini, e a un certo punto è arrivata una tecnologia da qualche parte che ha permesso di costruire una roba che si chiamava fabbriche. Questa tecnologia ha avuto un impatto sia sul cambiamento dell'economia, ma anche sulla società, molti contadini sono spostati dalle campagne delle città. È stato un cambiamento di regole, un cambiamento di modelli, e noi stiamo vivendo un periodo molto simile. Sempre, alla base di tutto, c'è la disponibilità di nuove tecnologie che ci permettono di fare cose che prima non potevamo fare. Queste sono driver, spingono i cambiamenti. Abbiamo difficoltà a capire o a immaginare quale può essere il futuro. Non siamo degli indovini. Però quello che possiamo fare è pensare di immaginare un futuro partendo da alcuni segnali che dal futuro ci arrivano, che in realtà poi sono già presenti. Poi durante la mia presentazione, che ho fatto tutta in lettere, perché sono un giornalista e quindi mi esprimo meglio così che non con le immagini, arriveremo a raccontarvi anche che già qualcuno sta implementando questo tipo di modelli. Questi segnali che arrivano dal futuro ci dicono alcune cose molto interessanti. Qui appunto partiamo con queste che ho chiamato keywords. Abbiamo appunto il cambiamento di paradigmi che è la giusta interpretazione invece della crisi economica. Ma abbiamo due parole molto importanti lì, decentralizzazione e crescita esponenziale. Decentralizzazione è una parola chiave perché poi vedremo, è quella che ci permette di capire uno dei pilastri di questo cambiamento paradigmatico. La crescita esponenziale è un altro elemento importante. Noi dobbiamo tenere in considerazione che la disponibilità di tecnologie e l'evoluzione delle stesse non evolve con un processo lineare, ma evolve con una rapidità esponenziale. Quindi la velocità con la quale questo tipo di tecnologie diventa disponibile è increscendo. Ogni tanto quando vado a fare qualche lezione in qualche liceo, in qualche università, faccio questo esempio. Per esempio, immaginate che oggi sia il 2008, quindi pochi anni fa, non molti anni fa, e io dicesse una frase del tipo, ho scaricato un'app sul mio smartphone Android. Probabilmente mi prendereste per visionario, perché né smartphone, né Android, né app erano presenti all'epoca. Oggi è una roba comune, per cui immaginate solo questo, in soli pochi anni quanto è cambiato la nostra percezione. Altri segnali che ci arrivano dal futuro sono il superamento della dicotomia tra profit e no profit. Noi siamo abituati a pensare alle organizzazioni che fanno profitto come organizzazioni cattive, o comunque non buone in tutto ciò che fanno, e invece siamo abituati a pensare che per fare cose buone dobbiamo applicare il concetto del no profit. In realtà, questo è un processo che va a essere superato. Esiste anche una nuova forma d'impresa, che si chiama Benefit Corporation. L'Italia è il secondo paese al mondo ad avere una normativa apposita, che è stata approvata lo stesso dicembre. Le Benefit Corporation, che possono essere aziende di ogni tipo e di ogni settore, di ogni dimensione, hanno nel loro DNA, nel loro processo, sia la capacità di generare profitti, valore economico, creare posti di lavoro, sia quella di avere un impatto sociale e ambientale positivo. Il neonomadismo, o nomadismo digitale, è un altro fenomeno, un altro segnale che ci arriva dal futuro, che ci dice che sempre più persone in questo pianeta hanno capito che ci si può liberare della connessione tra il lavoro che si fa e il luogo dove si vive. Ovvero, uno può fare il lavoro che, almeno questo vale per alcuni mestieri, non per tutti ancora, naturalmente, però c'è una buona fetta di popolazione che ha capito che il suo lavoro non deve necessariamente essere legato a un territorio, per cui si muove e va in giro per il mondo. Vive un po' qua e un po' là. E questi sono i cosiddetti nomadi digitali, in quanto digitale è l'infrastruttura che gli consente questo. Altra parola chiave, blockchain. Questa è un'altra parola chiave molto interessante, molto importante, quasi come la parola internet, perché blockchain è una tecnologia, è uno strato, una filosofia tecnologica quasi, che consente di implementare il concetto di decentralizzazione. Poi vi spiego come. Qui poi ho citato altri due punti, che sono la presenza delle città-stato, che sempre di più le città per importanza sostituiranno il valore dei governi nazionali. La cultura imprenditoriale di nuova generazione, quella delle start-up, è un altro elemento importante, perché è una cultura che è nuova rispetto al modo in cui si faceva impresa precedentemente, ed è soprattutto globale. Tutto ciò si scontra con un sistema che è attualmente inefficiente. Le attuali democrazie di tipo rappresentativo, quelle maggiormente diffuse al mondo oggi, stanno dimostrando ad essere più sistemi efficaci, perché concentrano il potere, perché consentono al strato di rappresentatività di prendere le decisioni non sempre condivise, perché rischiano di essere forieri di corruzione, di sprechi e del mantenimento delle rendite di posizione. Gli Stati di Nazione, dicevo prima, sono sempre più deboli nella loro importanza nell'equilibrio socio-economico che si sta creando. Altri sistemi centralizzati che oggi funzionano come modelli centralizzati sono per esempio quella della distribuzione dell'energia elettrica. L'energia elettrica viene distribuita, ci sono delle centrali, da qualche parte, che producono l'energia che poi, nelle nostre case, uffici, fabbriche, scuole, arriva con delle reti di trasporto. Sistema assolutamente inefficiente, dispersivo, altamente costoso. Oggi le grandi aziende che fanno energia e che stanno implementando, stanno portando l'energia elettrica in quelle parti del mondo dove ancora non è arrivata, non lo fanno così, come è da noi, ma lo fanno con tecnologie che consentono di produrre energia nello stesso posto dove viene consumata. Sistema decentralizzato. L'altro esempio è quello dei bitcoin. I bitcoin sono molto importanti perché sono la dimostrazione pratica del concetto di blockchain di cui vi dicevo prima. I bitcoin, qualcuno di voi ne ha sentito parlare sicuramente, sono la prima criptomoneta che sono innovativi non solo perché sono digitali o perché sono sovranazionali, ma sono innovativi perché non c'è la banca centrale dei bitcoin. Quindi noi abbiamo una valuta che viene trasmessa su internet, quindi mantiene la proprietà e che non è gestita da un sistema centrale. Questi modelli, la democrazia diretta, cioè l'eliminazione dello strato intermedio tra i cittadini e l'entità che poi gestisce amministrativamente la cosa pubblica, è già una realtà, per esempio, nei cantoni svizzeri. L'olacrazia, che è il sistema non solo decentralizzato ma anche non gerarchico, è già una realtà applicata da alcune organizzazioni, da alcune imprese. Per esempio usano il sistema lucratico, imprese come Medium, che è questo nuovo sistema, cioè nuovo anche abbastanza noto e diffuso, che molti usano per pubblicare contenuti su internet. Lo è la società che si chiama Automatic, che è quella che fa WordPress, che molti usano per fare siti web. La panarchia invece è una possibile evoluzione sulla quale si sta ragionando, che è molto legata al concetto del neonomadismo digitale, che è quella che dice che se noi scolleghiamo il lavoro dal territorio possiamo scollegare anche i sistemi legislativi e metterli in competizione tra loro. E sta già succedendo. BitNation è un'organizzazione che sta definendo modelli organizzativi degli stati secondo il concetto della blockchain. Tutte queste cose sono liberalmente consultabili su internet. Ethereum è una startup che sta sviluppando un sistema per la gestione basato sulla blockchain dei contratti, degli smart contract. Quindi anche chi fa l'avvocato, quindi anche un mestiere che noi siamo abituati a considerare solido o consolidato, sarà oggetto di questo forte mutamento. Teleport e Nomad List sono due siti che aiutano coloro che vogliono fare il nomade a scegliere il posto migliore dove andare a vivere sulla base delle caratteristiche economiche, sociali, di preferenze climatiche o quant'altro. Il governo dell'Estonia, paese dell'Unione Europea che usa l'euro, quindi non stiamo parlando di un altro pianeta, ha già da qualche mese reso disponibile la residenza elettronica. Badate bene, sto parlando di residenza non di cittadinanza, per cui le tasse le continuate a pagare qui. Chiunque di noi virtualmente può diventare un residente virtuale dell'Estonia senza esserci mai stati fisicamente. Io scommetto che molti di voi non sanno neanche qual è la capitale dell'Estonia. Però potete diventare estoni dal punto di vista della residenza. Perché è importante avere questo tipo di residenza elettronica? Perché se tu sei un nomade digitale, ti muovi spesso, quindi non hai una residenza fisica stabile, però quando devi aprire un conto in banca, devi aprire una società o devi firmare un contratto, ti serve avere questa residenza. Il governo esterno ti dà questa possibilità, indipendentemente da tu chi sia, puoi andare sul sito, paghi 50 euro una volta, loro ti mandano una smartcard e con quella fai tutto. Altri esempi interessanti sono Medium, Automatic e Zappos, li abbiamo già citati. Però per esempio sui generis è un gruppo di imprenditori canadesi che sta cercando di sviluppare un modello, loro lo chiamano appunto Startup Cities, dove l'organizzazione di questi territori è fatta in un modo in cui l'economia deriva dal sostenere lo sviluppo di imprese innovative che nell'ambito dei numeri possibili diventano delle imprese, potenzialmente delle imprese che fanno molti soldi, per cui lasciano poi sul territorio dei ritorni economici. I cittadini di queste Startup Cities non pagano le tasse ma lavorano, cioè danno un contributo volontario affinché il sistema funzioni. Questi signori stanno lavorando per stringere accordi con alcuni paesi europei affinché venga dato loro un territorio, un pezzetto del territorio per poter implementare questo tipo di cose. Cito inoltre questo modello, cito inoltre la competizione, cioè gli ecosistemi Startup che si stanno sviluppando in tutto il mondo. Gli cito perché è un esempio molto interessante per capire come se voi andate sul web e cercate una qualsiasi ricerca che mette a confronto questi sistemi, scoprirete che il confronto viene fatto sulla base dei sistemi urbani. Cioè quindi non c'è il confronto tra l'ecosistema delle Startup in Italia, in Francia, eccetera. Ma c'è soprattutto quello tra Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma, Lisbona, Milano, Silicon Valley. Quindi anche in questo caso stiamo vedendo come un segnale ci arriva di questo tipo dove i sistemi organizzativi urbani stanno acquisendo sempre più potere rispetto ai sistemi di organizzazione che noi conosciamo con il nome di Stato o Nazione. Queste sono informazioni che sono in continua evoluzione, sono un modo per cercare di comprendere come è possibile che sarà il futuro ed è un modo che chiunque di noi che voglia fare l'imprenditore, il viaggiatore, l'agricoltore, l'avvocato o il giornalista deve sapere, quantomeno tenere presente perché accade, sta accadendo, stanno già arrivando queste cose. Non possiamo non esserne almeno consapevoli. E quindi questo è un po' il messaggio che vi voglio dare. Tenete d'occhio questo tipo di evoluzione. Io quando ho iniziato a fare la carriera del giornalista l'internet stava muovendo i primi passi e quindi insomma i giornalisti che iniziavano il mestiere per accrescere più rapidamente la loro reputazione cercavano di andare a lavorare per giornali molto ben conosciuti. Quindi associare la propria firma al nome del giornale noto. Oggi accade esattamente il contrario. coloro che si lanciano nella professione giornalistica con internet costruiscono prima la loro reputazione usando internet. Quindi associando il livello di reputazione al proprio nome. E poi sono i grandi giornali che vanno a caccia di questi giornalisti sul web. Quindi stanno cambiando proprio tutti i sistemi e tutte le regole e il mio messaggio è non distraetevi perché sennò sarete colpiti da questa ondata che sta arrivando prepotentemente. Grazie a tutti e buon caffè!